Come medico ho osservato per oltre 30 anni che tutto ciò che viene può fondamentalmente anche tornare indietro e oggi abbiamo l'opportunità di contribuire a questo con il potere curativo della natura con estratti a base di erbe ad alto dosaggio. L'esatta filosofia che ci sta dietro è quella olistica, traendo tutto il sapere da tutte le risorse dei gruppi etnici, la conoscenza da questi popoli ed estrarre sempre il meglio da questi e metterlo in una piccola capsula. Questo è Ethno Health. Da alcuni anni è possibile ricavare il meglio da una pianta curativa utilizzando processi di astrazione molto moderni, in modo da avere un grado di efficacia estremamente elevato. Io ho la responsabilità di assicurarmi che scegliamo le materie prime appropriate, la giusta combinazione di materie prime, assicurandomi solo che alla fine della giornata abbiamo un grande prodotto con un grande effetto. Tutti i prodotti Ethno Health sono inizialmente considerati prodotti preventivi. Secondo il motto Prevenire è meglio che curare, vogliamo rafforzare le persone, sostenerle, aiutarle a ritrovare il loro equilibrio interiore e quindi a riprendere vigorosamente la vita. Prodotti Ethno Health agiscono dall'interno verso l'esterno perché vengono assimilati come cibo. Partendo dallo stomaco, l'effetto si sviluppa in tutte le aree in cui è necessario. Acquistiamo a livello globale, ma naturalmente, secondo i criteri e gli standard tedeschi, compriamo solo la migliore qualità, che viene controllata internamente dal nostro controllo qualità e solo successivamente integrata in un prodotto. Il mio compito nello staff Ethno Health è quello di determinare le formulazioni di erbe medicinali e di metterle costantemente alla prova e perfezionarle. Credo che il mio ruolo sia semplicemente quello di essere qualcuno che continua a pensare all'idea, cioè alla lungimilanza, verso dove progredisce l'impresa, ragionare ed indirizzare. Un successo assoluto. La Health Angel, che è naturalmente grandioso, perché questo è il riconoscimento da parte di una terza istituzione. E questo è bello. Questo è un premio e noi vogliamo solo continuare su questo cammino. Saremmo sicuramente uno dei maggiori produttori o distributori di prodotti sanitari, prodotti olistici. È una questione che mi sta a cuore, che noi umani ci curiamo con le possibilità che la natura ci mette a disposizione. Ed è una delle mie passioni fare ulteriore ricerche a riguardo, in modo che il numero di prodotti Ethno continui ad aumentare nel tempo. Ora abbiamo fatto il primo passo e globalizziamo, cioè siamo andati in Francia, naturalmente anche per raggiungere altre persone in Europa, portando questi preparati alle persone, con il compito di offrire al mondo semplicemente un valore aggiuntivo. Il mio sogno è che tra dieci anni saremo ad un punto in cui potremo curare le malattie più importanti del nostro tempo, esclusivamente con i poteri curativi della natura, e non avremo più bisogno di sostanze chimiche con i loro effetti collaterali. Grazie a tutti.